Buongiorno Paolo di YouTube. Questa è un'allegria, a parte il terno 22, 29, 77, 79, ma qui c'è stata una cosa ancora più bella. Ve l'ho detto che stavo studiando per sorti superiori, ed è accaduto. Sei ambi su Genova, quattro terni secchi, ed una quaterna secca. Oggi giustamente domenica 3 aprile 2022, quindi il tempo che arriverà è tutto. Vediamo l'orario su quest'altro telefono. Eccolo qua, ore 10 e 49, domenica 3 aprile. Per me, per la mia attività che ci vuole, è stato qualcosa di grandioso quello che è successo, qualcosa di bello. Guardiamo su ruota, amici mi. Ecco qua. Sono organizzato per benino. Ruota di Milano. I tre ambi secchi sono sortiti, 35 e 39. 35 e 80, 39 e 80. La prima vincita. La seconda, 24 e 35, 24 e 80, 24 e 39. Secondo terno. Poi la quaterna ha quattro numeri. 35, 39, 24 e 80. Quindi qualcosa di veramente eccezionale. Ovviamente per chi mastica l'otto sa che abbiamo una sola possibilità su 117.480 possibilità, amici miei. Eccolo qua. Eccolo qui un altro. Ovviamente sono pagabili solo in banca. Eccolo qui un altro. 35, 39 e 80. Vabbè, un terno su tutte, ma un terno secco. Dove la posta, voi sapete? Mi insegnate che ogni euro sono 423 volte punto 50 alla posta, togliendo i soldi delle percentuali che non va a noi. Mentre qui, qui stiamo parlando, se avesse giocato all'otto più, avrebbe peso di più. Qui stiamo parlando ogni euro di 4.225 volte la posta, più i tre ambi secchi. Sull'altro social l'ho fatto prendere un terno bellissimo. E' la quartina era 22, 29, 77, 79. Terno su quattro numeri. E poi l'ambo nel terno su ruota, che è stato il 29, 79 e 77. Io ho questo piccolo gruppetto di persone che ho formato. E sono persone, poche persone. Anche perché non ne occorrono tante. Per cui già orate del genere, con una piccola vincita così, insomma. Fate un pochino voi. Vabbè. Questa sera io vado a cena con questi amici che abbiamo vinto. Che cosa dirvi? Occhio alle notte. E occhio al 9,90 su Genova e Milano. Dalle 1 è tutto. Ciao.